Un'altra notizia importante riguarda un'importante operazione che è stata messa a segno questa mattina dalla Polizia di Stato di Catanzaro con l'arresto di 62 persone, sono tutte quante accusate a vario titolo di associazione a delinquere, di stampo mafioso, traffico di stupefacenti, estorsione, ricettazione, furto, porto e detenzione illegale di armi da fuoco. Un'operazione che ha visto il coordinamento della Procura della Repubblica Distrettuale Antimafia di Catanzaro e soprattutto la soddisfazione del prefetto Messina che ha messo in evidenza poco fa quanto di fatto sia stato importante anche il superamento della logica dell'omertà e quindi la collaborazione evidentemente che c'è stata sul territorio che ha portato a questo importante risultato. Queste sono state alcune delle dichiarazioni rese poco fa dal prefetto Messina che è capo dell'anticrimine.